Ripartiamo proprio di questo webinar che è lo scopo che vorrei appunto raggiungere questa sera, in linea un po' con la presentazione dichiarata sui scopi dell'OPL Academy, sono proprio quelle di provare ad incuriosirvi, a suggerire e a semplicemente condividere con voi la mia esperienza di lavoro accanto alle famiglie dei bambini con disabilità. Quindi partirei subito con una prima definizione, la definizione di disabilità nella Convenzione dell'ONU, la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri. Ecco il concetto è proprio dell'interazione, interveremo sempre questa parola nell'ambito, sempre abbiamo a che fare proprio con delle interazioni tra la menomazione fisica e la persona, tra la persona e l'ambiente, l'ambiente inteso come fisico, l'ambiente inteso come relazionale, sociale e culturale. Il principio dell'uguaglianza è quello che viene sottolineato sicuramente in questa definizione che ci porta proprio a sottolineare anche la centralità del contesto, non solo del disabile della persona, non è più solo un affare del disabile come era in precedenti, vecchia definizione, ma proprio un tema del contesto. Il contesto ci dice sempre la convenzione dell'adattarsi ai bisogni delle persone disabili attraverso degli accomodamenti ragionevoli che possono essere delle modifiche, degli adattamenti necessari a garantire o a promuovere comunque il funzionamento della persona disabile sempre mantenendo un principio di uguaglianza e quindi anche noi abbiamo, noi psicologi, un po' questa indicazione di fornire un accomodamento ragionevole, quindi anche alcune nostre tratti, anche alcune nostre tecniche che utilizziamo o teorie che abbiamo come riferimento avranno bisogno e necessità di accomodarsi ragionevolmente senza perderne il contenuto centrale in direzione proprio di favorire questo uguaglianza e funzionamento della persona disabile di cui ci occupiamo o della sua famiglia. che ci serve conoscere nell'ambito della disabilità è proprio l'UCF che è una classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute e vuole descrivere proprio lo stato di salute di una persona nella relazione con il proprio ambiente per cogliere proprio le difficoltà e quindi avere poi degli indicatori e delle direzioni per affrontare queste difficoltà. Una classificazione che appunto è stata ampiamente studiata, modificata e rimaneggiata e che adesso abbiamo a disposizione modificata perché cambiava il modello di riferimento. Inizialmente avevamo un modello medico, adesso abbiamo un modello bio-psico-sociale che è uno dei cardini di questa classificazione quindi tiene conto proprio delle interazioni di tutti gli aspetti. È un modello che ha come espressione viviva e universale facilitando poi la comunicazione tra operatori un codice alfa numerico come tutti i codici che conosciamo, per esempio quelli del DSM-5. Considera proprio il funzionamento, non solo la disabilità ma anche il funzionamento, l'attività, la partecipazione e i fattori contestuali che già nella prima definizione avevamo. Lo dico solo due o tre cose semplici per chi non lo conoscesse, scusate se mi vedete muovere la mano ma ho una zanzara a restito dell'estate che mi fa subire cosa classifica. Racchiude proprio tutti questi aspetti della salute e le componenti proprio legate al contesto della salute. Quello che è importante sapere è che riguarda tutti questa classificazione perché è una classificazione che proprio riguarda il funzionamento quindi non riguarda solo la persona disabile ma appunto riguarda il funzionamento e ha un'applicazione appunto universale. Funzionamento e disabilità sono i due aspetti centrali che andiamo ad osservare sono due termini ombrello che vanno a racchiudere dentro sotto di sé comunque tanti aspetti per quanto riguarda il funzionamento si intendono le funzioni corporee, le attività, la partecipazione e indica proprio gli aspetti positivi dell'interazione tra la persona e il contesto di quell'individuo, tra la persona e le proprie menomazioni quindi si riferisce al funzionamento, alle risorse e all'applicabilità però di queste risorse. La disabilità invece è il termine ombrello che racchiude proprio queste menomazioni, limitazioni, riscrizioni che sono date proprio dalla disabilità stessa, quindi indica più gli aspetti fatti così. le funzioni abbiamo detto corporee, le funzioni fisiologiche, le strutture, quindi le parti anatomiche del corpo, gli organi, gli aspetti eccetera, le menomazioni sono proprio i problemi nella funzione e l'attività è poi la possibilità di eseguire il compito o l'azione da parte dell'individuo tenendo conto questi aspetti di funzioni, strutture e minimazioni. La partecipazione, l'altro aspetto è proprio capire le restrizioni alla partecipazione, le limitazioni all'attività ma anche i fattori ambientali che sono in relazione con la possibilità della persona di interagire con l'ambiente e di poter partecipare sempre nell'ottica di favorire un accomodamento ragionevole per favorire la partecipazione. Quindi abbiamo come dire in sintesi queste parti nelle CF, funzionamento, disabilità, fattori contestuali che riguardano sia quelli personali della persona stessa che quelli ambientali e del contesto specifico in cui vive. Se vogliamo dirla in termini semplici, il nostro corpo non funziona bene, mi sento limitata nelle attività e trovo barriere. Quindi sono questi aspetti che vanno poi a essere classificati e ricondotti a questo sistema di classificazione. Perché ne parliamo di disabilità e di psicologo accanto alla disabilità perché i numeri sono alti anche se vogliamo pensare ad una statistica, il rapporto comunque di stato del 2016 ci parla di 430 mila persone nella fascia da 0 a 44 anni e di più in oltre 75 anni perché chiaramente ci sono condizioni di disabilità legate all'invecchiamento. Però solo questi numeri ci indicano la nostra figura in questo contesto. c'è anche un dato significativo che i dati ci riportano che sono quelli legati alle persone che si prendono cura di persone disabili che possono essere appunto in queste statistiche rientrano sia gli adulti quindi persone che si prendono cura degli adulti con una disabilità ma anche di minori e anche qui sono tanti. Quindi noi abbiamo proprio dei dati che ci indicano come dire la numerosità di questa popolazione ma consideriamo anche la numerosità della popolazione sia in termini di disabile, persona disabile che di persona caregiver che se ne prende cura. Ok? Quindi dobbiamo anche qui, volevo appunto darvi questi due aspetti numerici proprio per sottolineare un po' l'importanza anche di provare a fare delle azioni e sempre andare nell'ottica di questo accolmamento ragionevole anche per quanto riguarda un po' il nostro ruolo e la nostra lavoro. Quello che vorrei appunto indicarvi adesso anche raccontandovi con degli elementi sicuramente un po' più tecnici la mia esperienza vorrei appunto ci occupiamo di persona con disabilità, di famiglia e dello psicologo questi sono i tre protagonisti la persona con disabilità, la famiglia e noi noi perché abbiamo bisogno di capire, incrociando i bisogni della famiglia che è di un bambino con disabilità, incrociando, osservandoli e comprendendoli abbiamo bisogno di capire quali proposte. Ecco quello che riporterò questa sera è proprio la mia esperienza quindi le mie proposte di lavoro. Ma innanzitutto un punto di partenza è capire da subito che cosa accade nell'esistenza di una famiglia quando un bambino, arriva un bambino con una disabilità ok quindi che cosa succede? Noi a volte lavorando poi con diversi operatori osservare quello che è il bambino disabile ed è questo è importantissimo il funzionamento così come la disabilità ma abbiamo bisogno proprio di osservare in questo webinar anche la famiglia che c'è intorno e capire subito, subito insomma quanto prima quando riconosciamo proprio capire che cosa è accaduto nell'esistenza di questa famiglia perché tutto è subito molto complesso soprattutto quando si tratta di disabilità già emergenti alla nascita ok, al primo screening quindi comunque tutto diviene molto complesso ci sono problemi magari di salute anche gravi, c'è un problema respiratorio, ci sono interventi chirurgici da fare quindi c'è tanto accudimento anche sanitario a volte che presuppone proprio l'apprendimento rapido dell'utilizzo di apparecchiature mediche anche per aiutare subito il piccolo o per capire che cosa sta succedendo quindi tutto molto complesso adesso io mi occupo di disabilità medio gravi, di genitori con famiglie di disabilità medio gravi per cui a volte davvero dalla nascita subito c'è questo e poi proprio un altro concetto che comincia da subito a emergere no? che se per un bambino un figlio sano l'autonomia cresce e quel crescere dell'età questo è inversamente proporzionale per un ragazzo un bambino che ha una disabilità perché magari le richieste di accudimento aumentano anche sotto il profilo sanitario quindi capire l'accaduto è complesso anche per il genitore stesso e la famiglia sicuramente è messa alla prova da questo Alessia scusami ti posso interrompere un secondo perché ogni tanto salta la connessione e quindi si perdono dei pezzi se puoi ripetere proprio quest'ultima parte rispetto ai genitori Dicevamo appunto che spesso i genitori si trovano subito ad affrontare delle fatiche proprio di accudimento e delle scelte anche sotto il profilo sanitario e da subito la famiglia è messa a dura prova in questa esperienza e è importante appunto considerare queste difficoltà ma è importante considerare proprio l'impatto emotivo che questa esperienza ha sui genitori Talvolta mi senti Sara? Sì 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 ok annoivo ma giustamente tu non mi vedi Va tutto bene adesso Grazie Ok Allora una domanda che sento fare spesso che ho sempre sentito fare nei primi racconti anche dei genitori è proprio ma perché è successo il mio figlio? Che cosa è accaduto? Perché è accaduto a me? Che cosa? Perché è nato così? Queste sono domande che magari viene da pensare che sono attive nella mente delle persone all'inizio quando nasce un bambino quando capiamo subito che ci sono queste difficoltà invece sono domande che il genitore può portarsi dentro per tanto tempo non solo non sono domande che il genitore ha e si pone proprio solo nei primi momenti o nel primo anno di vita quando emerge una diagnosi sono domande che arrivano proprio e rimangono nel tempo per cui capire anche la storia di come è andata il parto quello che è successo quali sono anche le prime cose che sono state si sono attivate come ha vissuto però proprio per renderci conto qual era il contesto dei genitori quando è accaduto quando è nato il bambino no? proprio per capire anche poi che cosa vuol dire no? porsi per un genitore queste domande ci sono diverse implicazioni emotive che il genitore sperimenta diverse emozioni intense io ne ho indicate qualcuna che sono diciamo le principali l'ansia perché da subito no? la disabilità la diagnosi fa subito attivare non solo la paura ma proprio l'ansia no? rispetto alla percezione futura come farò ci sono tante incertezze come cosa faremo cosa come starà cosa bisognerà fare quali sono gli strumenti quali informazioni quali prognosi ok? perché spesso le informazioni non sono nemmeno complete all'inizio perché magari alcune diagnosi possono essere un po' vaticose la rabbia la rabbia che può essere verso l'esterno sappiamo che quando non capiamo qualcosa una delle nostre reazioni può essere quella di arrabbiarci con qualcosa di esterno anche se non è la causa diretta no? quindi rabbia verso il mondo verso le figure mediche specifiche che vengono vissute a volte come intrusive a volte come di sostegno ma a volte proprio come coautori no? proprio cioè nella ricerca di senso può essere proprio anche questo tema questa emozione di rabbia molto intensa piuttosto che la tristezza quindi questo ambito tristezza e disperazione perché la nascita può implicare di un figlio disabile può implicare un pochettino anche una sorta di lutto rispetto all'ideale di bambino che uno normalmente e che giustamente anche durante la gravidanza si costruisce no? e poi il senso di colpa il senso di colpa che può essere come dire attivato e correlato all'aver potuto evitare no? c'è un po' l'idea ma se avessi avuto comportamenti di salute diversa forse se non avessi non so fumato da queste sostanze cioè ci sono delle come dire domande che una mamma si pone e che possono attivare il senso di colpa come per il resto anche per il papà no? come posso aver ho sbagliato qualcosa come posso aver generato comunque parte del mio corpo ha generato in qualcosa che mette in difficoltà il mio figlio no? quindi queste sono le emozioni molto intense che si possono comunque sperimentare in particolare dei genitori che sono particolarmente dolorosi il momento della diagnosi ecco il momento della diagnosi è particolarmente doloroso c'è un aspetto della diagnosi che riguarda anche la comunicazione che riguarda anche il momento della comunicazione come viene comunicata da chi viene comunicata sono anche degli aspetti fatti così proprio legati anche al come sappiamo che è molto complesso comunicare delle notizie negative o comunque delle notizie come dire complesse ma spesso c'è anche proprio questo tema della comunicazione della diagnosi che è un momento doloroso come è doloroso la presa di consapevolezza che questa diagnosi magari è modificabile si possono fare delle cose proprio sul funzionamento chiaramente di questo bambino ma la diagnosi in alcune situazioni non è modificabile quindi questo è il frutto un po' di un processo questa presa di coscienza però anche questo è un momento molto doloroso molto intenso che può essere doloroso intenso legato alla diagnosi quindi come rendersi conto e avere la consapevolezza dell'impegno di cura richiesto quindi quando si può essere un aspiratore bisogna pensare in maniera diversa quindi proprio anche questo aspetto qui e poi l'aspetto della consapevolezza dei cambiamenti nell'aspetto familiare alcune cose non si riescono più a fare è un processo che può essere letto ma c'è un momento in cui si prende un po' consapevolezza di questo del cambiamento e può essere appunto anche questo caratterizzato da sofferenza per gli genitori altri momenti crescendo il bambino sono proprio legati alle fasi di sviluppo quindi magari quando ci si aspetta che possa dire le prime paroline anche quando ci si aspetta che interagisca in reciprocità con la disabilità a volte le prime parole non arrivano mai quindi quando un po' nella mente del genitore si arriva un po' a un gruppo ecco questi possono essere momenti veramente dolorosi che si confrontano proprio con quello che invece è un regale modificabile come può essere altri momenti legati allo sviluppo si inizia l'infanzia, ha sei anni la primaria quindi questo è l'evento di passaggio e di difficoltà nella degenza dove lavoro, dove ci sono ospitati dei bambini appunto fino ai 18 anni con disabilità medio gravi all'interno di questa degenza è presente la scuola pubblica del provveditorato ha all'interno proprio le classi e questo anche lo vediamo quando arrivano i genitori, i bambini e i bambini nuovi proprio questo approccio non va alla scuola come pubblico allora dicevamo dei momenti particolarmente dolorosi nella vita di una famiglia in particolar modo per i genitori dicevamo diversi possono essere i momenti per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita quindi alcuni step che sono tipici di un bambino le prime parole e i primi passi imparare a stare in piedi non sono cose immediate scontate per i bambini con disabilità a volte non arrivano mai le prime parole piuttosto che il passaggio alla scuola come dicevo non so se mi avete sentito spero di non annoiarvi ripetendolo nella degenza di una ciclo continuo dove lavoro all'interno di questa degenza c'è anche la scuola con delle classi distaccate appunto dell'istituto comprensivo proprio all'interno quindi anche rendersi conto per un genitore che il bambino va nelle classi speciali al di fuori addirittura dell'ufficio scolastico ma in un'altra struttura che è una struttura riabilitativa può essere un passaggio delicato alcuni fanno proprio fatica ad arrivare a questa decisione proprio perché è anche lasciare di nuovo un pezzettino della normalità magari immaginata e sognata altri momenti che riguardano lo sviluppo e la crescita possono essere legati alla possibilità di fare sport, attività ricreative ci sono, ci sono sempre in un cosaccomadamento ragionevole ci sono delle possibilità però è chiaro che è tutto più complesso e questo anche può essere un motivo di confronto con la sofferenza per il genitore piuttosto che con la pubertà pensare alla vita affettiva, alla sessualità dei bambini disabili, dei ragazzi disabili anche questa scoperta, questo passaggio di crescita della pubertà ecco può mettere in crisi nuovamente il genitore e piuttosto quando poi crescendo sempre di più avvicinandosi alla vita adulta comincia proprio ad emergere la consapevolezza di quanto poi come preservare l'autonomia del figlio e cosa fare per supportarlo il tema del dopo di noi rimangono nella scuola i bambini che conosciamo e quindi le famiglie fino ai 18 anni poi trovano delle altre strutture pronti ad accoglierle però già quando arrivano i bambini intorno alla pubertà il genitore comincia a porsi questo tema del dopo di noi noi non come struttura ma loro come genitori diventando anziani come potrà stare bene il mio bambino o il mio figlio adulto appunto con queste disabilità quindi questo è un altro momento carico ecco l'evento è complesso della disabilità e può essere molto complesso chiaramente ci sono disabilità diverse diagnosi diverse con funzionamenti diversi però comunque la diagnosi possiamo considerarla un evento critico per se stesso la diagnosi di disabilità è come se proprio nella definizione di evento traumatico abbiamo fatto un evento inaspettato critico che ha a che fare sicuramente con emozioni molto forti come dicevamo quindi è con queste emozioni molto forti che la famiglia si approccia a noi cercando di capire l'accaduto come dicevamo perché ma capire anche l'accaduto vuol dire quali sono le caratteristiche le limitazioni miglioramenti progetti possibili che cosa si può fare e poi poter partecipare alle tappe di crescita ok quindi anche se ci sono in mezzo tra la relazione tra il genitore e il bambino ci sono in mezzo degli operatori delle apparecchiature sanitarie come fare vogliono partecipare come fare a partecipare a costruire una relazione anche se ci sono delle altre persone implicate in questa relazione a volte possiamo avere invece una reazione di stacco e di delega proprio di distanziamento ancora una volta magari per una fatica motivo di distanziamento è un motivo da quello che succede e quindi un po' la tendenza a delegare alcuni aspetti processi di accudimento del bambino anche proprio al riabilitatore e alla lettore quindi la complessità è tanta della cura di questi bambini e spesso abbiamo appunto come dicevamo questa tendenza all'evitamento e qua cito appunto una persona che volevo solo fare senza pensare e senza sentire con tutte queste complessità anche a volte nella salute e nell'accudimento sanitario è facile poi concentrarsi proprio sulle cose da fare operative per il bambino che sono importanti ma c'è anche l'aspetto di relazione che è da preservare a volte c'è questa fatica per il genitore proprio per le emozioni intense che prova quindi il nostro compito è anche magari aiutarli guidarli e sostenerli in questa relazione e proprio nella direzione di aiutarli a elaborare e affrontare questo evento critico quindi l'approccio è anche un po' quello di vedere la disabilità come un evento critico o anche come un evento critico traumatico stressante possiamo usare queste oggettive a seconda dell'intensità però proprio dando poi l'indicazione gli strumenti per affrontarlo qualsiasi situazione che porta le persone a trovare le reazioni emotive particolarmente forti questa è una citazione che vi ho indicato una definizione tanto da interferire in maniera importante quindi questo rientra un po' nelle definizioni anche la disabilità di evento critico e traumatico anche se pensiamo alle definizioni di trauma, di leotifarina che considerano anche questi aspetti relazionali quindi abbiamo un processo che può essere lungo capire l'accaduto, accettazione che non è un processo passivo adattamento per un equilibrio e raggiungere un nuovo equilibrio rispetto a questo evento critico c'è una fase di aggiustamento la famiglia si pone delle domande come abbiamo detto sull'equilibrio ed è una fase dove la famiglia rimane stabile nella sua struttura nei suoi modelli di interazione nelle sue abitudini questa modalità è chiaro che non può essere sufficiente e non può durare un tempo è una modalità che porta per forza a una crisi a una difficoltà per passare poi a quella che è il vero e proprio adattamento dove davvero si può rimantenere la stabilità quale migliare ma costruendo dei nuovi equilibri che portano a nuove risorse nuove abilità di competenze nuove strategie di coping anche se prima non avevo mai chiesto aiuto adesso utilizzo anche il chiedere aiuto e confrontarsi con strategie di coping perché la situazione è complessa ho bisogno di semplificare le richieste magari facendogli aiutare quindi è un momento questo è un processo, l'adattamento che richiede veramente lo sforzo di nuove risorse nuove strategie cambiamenti di significati cambiamenti di equilibri per tutta la famiglia e a noi aspetta un po' il compito di accompagnarli in questo che ha una... poi davvero fa emergere quello che è il potenziale poi della famiglia questa è la slide che ho visto spesso con i genitori ognuno di voi ha un grande potenziale di riparazione dentro di sé tutti insieme quindi con degli strumenti diversi in più qua ci sono degli scudi ci sono degli strumenti diversi che la famiglia può osservare e può trovare quindi in che modo noi possiamo favorire questi processi di adattamento favorendo proprio un adattamento una crescita e proprio la resilienza sappiamo un termine proprio di quindi abbiamo spesso la capacità di trasformare un'esperienza dolorosa esseristante in qualcos'altro in qualcosa che sia apprendimento che faccia emergere delle nuove strategie resilienza familiare chiaramente diventa la resilienza di tutto il contesto familiare di tutto il sistema familiare e dipende da tanti aspetti ci sono dei fattori protettivi già all'interno della famiglia la capacità per esempio di fornirsi sostegno reciproco avere una rete di supporto parentale e sociale una famiglia che ha già un clima emotivo positivo proprio perché ci sono delle buone relazioni gli stili comunicativi i processi di interazione anche col contesto i valori gli scopi della famiglia quindi ci sono tanti aspetti che sono già delle caratteristiche come dire precedenti all'interno della famiglia ma che noi andiamo ad esplorare solo nel momento in cui c'è appunto la disabilità in famiglia e quindi noi arriviamo a prenderci in cerco e a interagire con questa famiglia però è bene anche considerare proprio questi aspetti protettivi per capire se ci sono ecco parliamo di crescita parliamo di adattamento possiamo parlare anche di crescita post-traumatica se vogliamo dire considerare la disabilità in modo particolare questa è l'esperienza della diagnosi di disabilità come un'esperienza critica e traumatica possiamo parlare anche di crescita post-traumatica individuando questa come un processo che porta sicuramente a un cambiamento nella percezione di sé perché cambiano anche aspetti di consapevolezza di come ci definiamo avendo superato dopo aver superato o comunque affrontando stando affrontando un evento molto difficile possono cambiare aspetti di filosofia di vita si cambiano nuovi scopi spesso i genitori dicono di aver cambiato poi le priorità nelle cose come spesso è accaduto è accaduto anche a molti di noi nell'emergenza della pandemia comunque ritrovarsi a riflettere su alcuni scopi e priorità e valori di vita e modificare anche alcune priorità quindi anche questo è un cambiamento è un segno di crescita post-traumatica come possono modificarsi le relazioni interpersonali si può percepire una maggiore vicinanza emotiva una maggiore empatia una maggiore capacità anche di esprimersi nella relazione con gli altri di accogliere l'aiuto di accettare l'aiuto e anche a proprie volte di incoraggiare l'altro altri aspetti della crescita post-traumatica perlomeno quali strategie di coping da questa meta-analisi individuiamo particolarmente importanti influenti sui processi di crescita post-traumatica il sistema sociale quindi l'apertura all'altro una visione una riformulazione positiva delle cose degli eventi non solo di quell'evento ma in generale degli eventi e poi anche questo aspetto di spiritualità che aiuta ad attribuire il senso che spesso noi lo accogliamo come esperienza del genitore ed è una cosa che lo portano questo è il centro dove lavoro e questo è il progetto vado ad illustrarvi perché abbiamo perso un po' abbiamo avuto queste difficoltà tecniche ma recuperiamo ma non voglio neanche tardare farvi tardare quindi vado a raccontare quella che è l'esperienza e questa realtà i bambini sono da noi da 0 a 18 anni sono 40-50 bambini quindi c'è un'equip educativa e riabilitativa quindi lavoriamo in un'ottica di multidisciplinarità quando le situazioni sono complesse quindi abbiamo logopedisti, educatori, fisioterapisti, psicomotricisti e poi è stato inserito anche appunto lo psicologo e che interagiscono queste equipe riabilitative con l'equip scolastica quindi con le insegnanti notando i bisogni della famiglia si è poi stato inserito anche proprio un servizio psicologico che inizialmente era proprio un servizio dedicato al dedicato proprio al tingolo genitore ed è partito come avvio di supporto psicologico individuale prima dell'avvio del supporto un'altra attività che veniva fatta oltre alla riabilitazione era proprio delle attività di animazione io li ho messi un po' in elenco così come fosse la storia appunto di questa esperienza quindi anche attività di animazione e esperienze di mini vacanze proprio perché era necessario proprio anche e richiesta la possibilità da parte dei genitori di condividere e stare insieme dall'esperienza di supporto individuale si è passati poi a un supporto di gruppo con i genitori e si è passati poi a individuare altri soggetti quindi il genitore che può accedere a un supporto per sé individualmente o come coppia di genitori può essere una richiesta di supporto psicologica sulla gestione emotiva di quello che gli succede sulla narrativa di quello che è successo o ci può essere anche una richiesta di supporto legato proprio agli aspetti psicoeducativi educativi nella relazione con il bambino gli aspetti pedagogici che normalmente incontriamo tra genitore e bambino gruppi di genitori, altra azione altro soggetto visto nell'insieme e gruppi di fratelli perché quando nasce un bambino disabile in una famiglia con altri bambini ci sono anche dei fratelli che hanno una relazione e che hanno anche loro il loro percorso di adattamento alla situazione quindi la nostra sequenza temporale è stata questa prima il supporto psicologico individuale per i genitori i gruppi MDR e adesso tra poco vi spiego per i genitori e i gruppi con i fratelli quindi un successivo step del nostro progetto previsto anche questo abbiamo mantenuto i gruppi MDR per i genitori abbiamo creato altri gruppi di condivisione per altri genitori che avevano magari già fatto un percorso ammigliare e mantenuto i gruppi fratelli e ha implementato anche le attività di feste ricreative e aggregative tra famiglie perché anche questa è un'esperienza proprio di condivisione in un piano diverso che per loro è importante oltre che per alcuni genitori è stato proprio importante il fatto di condividere una pizza alcuni genitori non ce la fanno magari c'è un tema organizzativo ma anche un tema magari di emotivo di vergogna di adattamento a andare magari in luoghi in pizzeria o a partecipare ci sono delle limitazioni come dicevamo quindi anche fare queste attività ricreative e animative tra loro per alcuni è stato proprio un trampolino di lancio per poi aprirsi alle stesse tipologie di attività ma anche fuori mantenuti i gruppi MDR mantenuti i gruppi di condivisione tra genitori mantenuti i gruppi SIVIS e mantenete la festa aggiunte anche oltre alla festa proprio anche queste piccole vacanze di 5-6 giorni al mare tutti insieme con famiglie e operatori dove all'interno riusciamo comunque a tenere uno spazio per i genitori e per i fratelli proponendo delle attività di condivisione tra fratelli proponendo delle attività di condivisione nell'ambito della vacanza al mare tra mamme e poi tra papà perché così uno dei genitori gestisce il figlio anche con il supporto dell'operatore che sono disponibili e che sono presenti anche ad indicare delle attività e a promuovere delle attività nuove gruppi per i genitori allora quelli che chiamo ognuno sono i gruppi dove facciamo un percorso sono i genitori che non hanno ancora fatto un percorso di gruppo e dove iniziano proprio con insieme quindi è un gruppo chiuso iniziano insieme un gruppo di magari una decina di genitori o da sei a dieci anche a dodici, tredici iniziano insieme fanno un percorso tutto l'anno diciamo di otto dieci incontri si incontrano un'ora e mezza il sabato la scelta del sabato è stata proprio quella di per tutti i nostri gruppi genitori per poter come dire creare anche uno spazio appunto al di fuori della dell'ultima scrittima anale dove magari c'è un solo genitore che potrebbe essere disponibile invece il sabato possiamo dare la possibilità a più genitori di partecipare in coppia i bambini possono essere portati al centro se i bambini disabili che i loro fratelli dove faranno delle attività recuperative e anche di condivisione insieme alle educatrici è anche un modo per i fratelli ed è importante proprio di vedere lo spazio dove i loro fratelli stanno durante la giornata le tematiche ecco la narrativa di che cosa è accaduto e la condivisione e poi affrontare i ricordi traumatici e individuare gli stimoli riattivatori cioè quali sono questi stimoli ambientali che magari riattivano delle momenti critici negati proprio alla disabilità ok che può essere appunto la sirena dell'ambulanza possono essere tanti i stimoli riattivatori quindi questo è il core del primo percorso di gruppo poi chiaramente è importante sarà importante fornire qualche strategia di gestione delle emozioni più faticose ma questo core abbiamo pensato di trattarlo e di raggiungere appunto questo scopo attraverso l'approccio dell'MDR l'MDR High Movement Desensitization Reprocessing è proprio un intervento che può favorire l'elaborazione degli aspetti traumatici e in questo caso gli aspetti traumatici della diagnosi non voglio in questo momento dilungarmi sull'MDR anche perché vedo anche il lungario però è un approccio lo sapete Francesca Piro nel 1995 lo scopri e da lì veramente un filone di ricerche di sperimentazioni cliniche e pratiche che hanno proprio portato a considerarlo a farlo considerare come metodo tra quelli elettivi indicato dall'OMS proprio per il trattamento del trauma quindi abbiamo pensato di utilizzarlo proprio per questo obiettivo in gruppo quindi naturalmente in gruppo ci sono degli accorgimenti da da tenere però proprio quello di proprio attraverso proprio questa metodica la vogliamo favorire l'elaborazione delle esperienze traumatiche quindi le emozioni negative che ancora oggi sono magari collegate a quello che è stata l'esperienza traumatica non possiamo ci sono tanti aspetti appunto personali soggettivi dell'esperienza di diagnosi e comunque di disabilità nel genitore quindi è un gruppo dove si fanno delle cose insieme c'è una cornici di riferimento c'è degli strumenti che sono per tutti ma è un po' come se ciascuno facesse il proprio pezzetto di elaborazione individuale si individuano dei momenti che sono stati particolarmente traumatici ne individuiamo tre nella vita di ciascun genitore partecipante quindi possono essere diversi quello che abbiamo visto è che la diagnosi è proprio come dicevo prima uno dei momenti più dolorosi e che ha trovato come dire giovamento nell'elaborazione attraverso l'MDR penso di andare avanti e magari lasciare poi lo spazio alle domande quindi magari sono un po' più veloce rispetto a quello che avevo previsto per risuperare un pochettino le difficoltà di connessione ma perché mi preme darvi un po' la panoramica di tutto quello che è questa mia esperienza quindi un gruppo l'esperienza del gruppo genitori con MDR un gruppo chiuso gli stessi genitori che continuano e proprio focalizzando sull'elaborazione dei momenti peggiori legati alla disabilità fatto questo primo gruppo abbiamo già notato comunque dei cambiamenti positivi anche proprio nella relazione con gli operatori nella complex e anche loro stessi ci dicevano quanto sanno meglio rispetto ad alcune emozioni che non sono più presenti anche se erano molto forti legati ad eventi ad esempio la comunicazione le parole del medico che risuonano rispetto a una parola grave rispetto a una comunicazione difficile una rischio grave di salute non sono più nella loro testa che rimbombano quindi non si attiva più l'emozione forte quindi già avevamo comunque potuto offrire un come dire un intervento che ha dato delle benessere stare meglio le persone gli entori ci dicono e ci dicevano che stavano assolutamente meglio da questo punto di vista hanno poi chiesto di continuare a vedersi perché c'è anche un altro effetto che non c'è solo l'esperienza tecnica che portiamo attraverso l'approccio che usiamo c'è proprio l'esperienza dove noi creiamo la possibilità di condividere di continuare a condividere tra di loro e quindi abbiamo creato un altro gruppo di proseguimento diciamo dove sempre il sabato dove abbiamo più affrontato alcuni aspetti legati abbiamo ancora di più affrontato aspetti legati alle emozioni ai pensieri al comportamento proprio nella vita quotidiana ok quindi cosa faccio quando vado al parchetto e vedo che al parco giochi vedo che siccome mio bambino ha una faccia molto brutta e tutto ricurvo su di sé non cammina bene gli altri bambini lo isolano o qualche genitore dice allontanati ecco cosa faccio quindi comprendere un po' questa relazione tra e condividere quello che succede nella pratica ai genitori condividere questi eventi queste esperienze quelle emozioni sperimentate i pensieri e provare a come dire a fornire dei suggerimenti che mettano in relazione questi aspetti e che propongono una gestione più efficace di queste situazioni pratiche quotidiane che spesso si trovano ad affrontare quindi la gestione proprio delle emozioni che che arrivano nella quotidianità e poi proprio porre l'accento sull'imparare a occuparsi di sé coltivando anche il proprio benessere quindi non è si può organizzarsi per uscire a bere un caffè con un'amica ecco a volte veramente i genitori fanno fatica proprio ad occuparsi di sé e hanno proprio solo c'è la parte di sacrificio molto attiva chiaramente però hanno bisogno proprio di ricaricarsi quindi il gruppo è servito anche questo gruppo di prosecuzione per sottolineare questi aspetti magari proponendo degli esercizi di mindfulness e di rilassamento anche proprio delle delle attività di questo tipo ci sono stati degli spunti della dell'ACT acceptance and commitment e training che ho utilizzato in questo gruppo proprio perché è importante sia l'accettazione come nella definizione nell'acronimo e l'impegno e tutto parte appunto come nell'ottica appunto ACT che sapete che è un un approccio esperienziale al cambiamento basato su alcune storie del contestualismo funzionale e la relational affluence theory dove i processi centrali sono proprio quello di accettare quello che è al di fuori del nostro controllo personale e impegnarsi a fare qualcosa che possa migliorare la qualità di vita nella direzione di quello che riteniamo importante quindi questo approccio è stato un approccio che un po' mi ha aiutato a che ho considerato mi ha aiutato in questi gruppi diciamo gruppi a seguire dopo sono proseguiti dopo l'intervento al MDR ok? quindi questi sono l'aspetto che voglio un po' sottolineare dell'acto è proprio la parte di essere qui adesso qui ed ora quindi per lui è anche proprio lo staccarsi da da altro ed essere lì ora dedicandosi a sé anche solo un sabato al mese dedicando a condividere quelli che sono proprio i propri pensieri imparare ad osservare anche il proprio pensiero come qualcosa di distante io non sono il mio pensiero sto pensando il mio pensiero e anche questi aspetti eh hanno eh contribuito proprio a una maggior cura di sé e maggiore eh consapevolezza e accettazione e quindi questi sono gli elementi principali dell'acto che ho un po' utilizzato attraverso anche delle attività semplici e attraverso appunto gli incontri di gruppo con i genitori eh proprio per dare a loro eh la eh possibilità di eh di avere degli strumenti da poter proprio utilizzare e anche nella loro quotidianità no? proprio anche per loro è importante no? questo è un'immagine proprio del di quanto a volte è come se fossimo in un autobus e in questa metafora spesso i genitori si ritrovano so la mia direzione che non è solo quello che devo fare sono i miei valori quello della persona che voglio essere ma c'ho tanti ostacoli interni che mi portano via e quindi eh non eh non riesco a ma tanto non sarò capace ma tanto farò fatica tanto ma ecco questi pensieri che a volte portano appunto eh ancora più carico no? quindi eh l'acte il qui ed ora eh questi elementi eh centrali ehm che abbiamo detto dell'acto il contatto con il momento presente la diffusione presentiva l'accettazione il se come contesto il se che osserva l'aspetto consapevole del fatto che stiamo pensando i valori sapere cosa è importante e poi fare delle cose agire in modo efficace con l'azione impegnata nella direzione dei valori che mi ha permesso di ehm condividere e stare appunto con questi genitori eh proponendo appunto del dando delle strategie proprio per la loro eh gestione gruppi fratelli anche questo è un elemento importante gruppi fratelli perché ci sono i fratelli no? non eh diciamo che eh la situazione di crescita dei dei fratelli delle sorelle dei bambini disabili non è fisiologicamente critica come lo è nel eh bambino disabile però richiede un'attenzione e una cura preventiva no? perché ci sono comunque degli elementi eh anche qui di eh adattamento eh e di accettazione e anche di emozioni che i bambini i fratelli e sorelli sperimentano che hanno bisogno di essere un po' ehm come dire gestiti e guidati no? quindi quello che eh eh un'attività che vi suggerisco lavorate nell'ambito della disabilità state pensando di presentare progetti veramente di dedicarvi ai genitori famiglia come gruppo eh condivisione ma anche ai fratelli no? che spesso risultano un po' essere invisibili ecco e per cui essere fratello e sorella di una persona con disabilità è un po' diverso dall'essere genitore no? quindi eh richiede anche da parte nostra comunque delle eh delle riflessioni e delle attenzioni diverse questo è un po' cosa faremo in questi incontri è una una parte di slide che propongo ai fratelli quando ci incontriamo ci conosceremo perché l'importante è conoscerci perché noi siamo interessati al confronto ma siamo interessati proprio a te in quanto Marco in quanto ehm 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 Marta Claudia insomma quanto sei come persona non solo perché sei il fratello no? perché spesso ci sono eh i fratelli si sentono appesantiti da richieste tendono poi a non disturbare oppure a disturbare molto per farci vedere no? quindi creare uno spazio per loro dove possono confrontarsi anche attraverso delle attività ricreative eh come dire ludiche non particolarmente eh 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 come dire faticoso così piano anche unitivo è importante proprio per dare a loro la possibilità anche di dire e di tirare fuori quello che è la fatica e poi anche e lo facciamo nello spazio proprio dove ci sono eh i loro fratelli durante la settimana per loro è importante anche osservare e conoscere un po' più da vicino quella che è la realtà e fisica anche il contesto fisico dei loro fratelli oltre che guidati dalle educatrici mediati dalle educatrici che conoscono bene il fratello disabile ehm è più facile trovare ehm delle attività un gioco un rito una canzone qualcosa che ciascun fratello può fare col proprio ehm fratellino sorellina disabile perché a volte è anche difficile metterle in contatto perché è più complesso non è immediato mettersi per terra di giocare la macchina quindi è tutto più complesso e la mediazione e l'incontro anche con gli educatori e gli operatori permette anche al fratello non solo l'energia di quello che ha dentro ma anche proprio quello di eh trovare degli stimoli ecco rispetto a eh rispetto a quello che eh può fare no? con anche creando delle occasioni di divertimento e di rilassamento tra loro ecco un grande team ehm fa tante risorse no? quindi una situazione complessa come può essere quella della disabilità come può essere quella del bambino disabile appunto fa ehm fa appunto ha bisogno di un eh di tante cose ha bisogno di eh un grande eh team e questo può mettere in campo molte risorse il team c'è il bambino ma dobbiamo considerare tutti tutti i soggetti no? quindi abbiamo i fratelli la scuola la scuola dei fratelli i genitori eh la comunità il contesto gli operatori tutti abbiamo comunque un ruolo importante e noi spesso la figura dello psicologo eh spesso fa un po' da collante e da mediatore e aiuta un po' a mettere insieme tutte queste risorse insieme no? ed è fondamentale che questo permette alla famiglia di essere accolta nella totalità e permette al genitore di sentirsi accolto nel in tutti gli aspetti anche ehm se parliamo della scuola del fratellino piuttosto che quindi non solo negli aspetti tecnici proprio legati alla disabilità e alla riabilitazione ma aspetti che riguardano proprio la loro ehm quotidianità ecco ehm allora io mi fermerei qui ok perché siamo già alle dieci e un quarto quindi ehm lasciamo come dire mi rendo conto di aver dato più una panoramica magari generale su queste ehm attività che si possono proporre e lascio lo spazio per le domande in modo da potervi dare delle indicazioni più mirate rispetto a quello che più mi interessa ok allora intanto ti farei una prima domanda se posso nel senso che mi incuriosisce molto a proposito eh dei fratelli di cui tu hai parlato e anche di quest'ultima slide no? in cui appunto parlavi di grande team di risorse e in cui citavi la scuola quindi eh mi chiedevo se appunto ti capita o vi capita mh e quanto spesso eventualmente di fare degli interventi ponte eh con la scuola ad esempio dei dei fratelli e in che cosa consistono eventualmente anche questi interventi eh sì perché magari si capita capita sì perché il uno degli aspetti appunto del eh che il fratello la sorella del bambino disabile eh deve affrontare è è proprio anche nella sua quotidianità in classe quando gli chiedono di scrivere ah ma i fratelli e sorelle che classe fanno e magari si trovano già nella fatica di spiegare che ehm si fa la quarta eh ma come mai non viene nella tua scuola come mai non c'è nella classe accanto ah ma allora sono andata insieme ma non lo vedo mai quindi di spiegare anche da una eh come dire da un'esperienza quotidiana che cosa eh qual è il motivo per cui il proprio fratello non c'è no? quindi ecco questo a volte questo vuol dire dare eh un suggerimento anche ehm attraverso appunto il genitore anche alla scuola bene abbiamo questo bambino di seconda che ci fa questa domanda che fa questa domanda al proprio genitore il proprio genitore la fa l'operatore che eh sta con il fratellino disabile bene allora possiamo sì come dicevi tu creare un ponte tra questo no? quindi arrivare non siamo noi che andiamo magari direttamente a scuola non c'è bisogno sempre magari dell'esperto ma possiamo dare degli strumenti o dei suggerimenti no? anche via e mettere in rete il genitore con con l'insegnante mettendo in campo degli strumenti eh comuni no? a volte abbiamo usato proposto delle storie e magari erano storie che abbiamo usato anche noi nel gruppo eh sì nel gruppo fratelli no? per riflettere parlare dare là per condividere delle emozioni no? tra i fratelli e quindi il bambino per esempio in classe può portare quella storia di cui è esperto perché ha già condiviso no? con altri e eh può portare costruendo poi un intervento eh con la collaborazione con le insegnanti quindi sì c'è proprio tutta una realtà no? il fratello la sorella ha un suo contesto no? quindi come dicevamo l'interazione è proprio la eh un concetto chiave assolutamente no? un contesto quindi abbiamo bisogno di prenderci cura perché poi il genitore si trova ad avere eh questa fatica questo carico e magari nella fatica anche di trovare le parole no? da suggerire al proprio bambino da poter dire ok? oppure già è complesso magari spostarsi gli spostamenti ehm con un bambino disabile che magari è insieme a rotelle o comunque è è movimentato è agitato no? sono difficili no? quindi pensate a andare alla festa di di fine anno i genitori entrambi vogliono andare alla festa di fine anno del eh fratellino sano ma portandosi anche proprio tutta la famiglia no? e quindi eh come dire eh ci sono dei processi delle preparazioni ecco per arrivare anche a questo quindi ci sono possibili questi interventi ponte ok allora ti propongo adesso qualche domanda eh da parte dei nostri partecipanti eh una prima domanda ehm riguarda eh le tecniche di mindfulness nel senso che eh ti chiedono se tecniche di mindfulness potrebbero essere funzionali alla presa di consapevolezza da parte dei genitori della situazione della nuova vita con il figlio disabile allora eh io direi che alcuni principi della mindfulness eh come dicevamo il qui ed ora la consapevolezza le piccole cose il respiro consapevole la camminata consapevole quello che che secondo me è importante è proprio il fatto di eh far sperimentare eh la consapevolezza del qui ed ora che loro sono sempre con la testa nelle cose da fare negli strumenti nelle eh nelle apparecchiature no? quindi anche provare con queste strategie di mindfulness ad alcuni consigliamo di fare facciamo magari noi un training completo di mindfulness io propongo degli esercizi delle esperienze no? proponiamo anche di intraprenderlo proprio perché eh crea questa possibilità di accorgersi di quello che succede no? delle sensazioni di quello che succede perché ehm queste sono anche eh esperienze di ehm come dire ehm proprio di anche di benessere no? mindfulness è anche un aspetto che ci dà la possibilità di avere un benessere ok? quindi sono ehm quindi non tanto ehm come dire non è magari per tutti perché alcuni ehm alcuni genitori gradiscono seguono su questi tipo di proposte altri fanno un po' più fatica hanno bisogno di cose un po' più come dire legate al ragionamento perché hanno una modalità diversa quindi fa anche un po' la nostra flessibilità quella di sapere che cosa proporre ok allora poi ti chiedono se i temi proposti al gruppo dei genitori sono temi che nascono dai genitori stessi o se li proponete voi? Allora ehm quando abbiamo ehm avviato questo progetto avevamo fatto proprio un questionario abbiamo fatto delle indagini incontrando singolarmente tutti i genitori e man mano che arriva un genitore nuovo ehm ci confrontiamo nei primi colloqui di conoscenza anche su quelli che sono i loro bisogni e su quello che loro si aspettano ok ehm quindi è vero possono modificarsi a seconda dei genitori diciamo che noi abbiamo un'idea di base sicuramente eh crediamo che eh eh prendere contatto con l'esperienza critica e traumatica eh elaborare questi momenti e eh trovare delle modalità di gestione anche delle emozioni siano per esempio degli elementi che eh che sempre proponiamo però alcuni aspetti più specifici magari ne ricaviamo proprio conoscendo i genitori man mano che eh i bambini vengono inseriti non so vengono inseriti dei nuovi bambini conosciamo i nuovi genitori e quindi nell'implementare e nell'organizzare il gruppo prima di farlo dialoghiamo con loro proprio individualmente hm e questo ci permette di capire un po' quali sono le esigenze ok eh ti leggo questa adesso buonasera è possibile condividere qualche sommaria informazione rispetto alle MDR in gruppo in che cosa consiste conosco quello in individuale e mi è difficile immaginare la stessa cosa in gruppo allora ehm le MDR sappiamo che ha una parte come dire semplicemente di parola non usiamo solo la parola ma usiamo anche dei movimenti che ha questa stimolazione bilaterale individualmente si utilizza ehm spesso diciamo quella la prima studiata emersa la simulazione visiva attraverso il movimento oculare in gruppo non possiamo utilizzare questa simulazione perché il terapeuta è uno e magari c'è un come dire un altro collega ma se il gruppo è di dieci persone è chiaro che non possiamo fare una simulazione uno a uno quindi si insegna un'autostimulazione tattile ok quindi attraverso il tapping perché nelle MDR è importante avere una forte di accesso ai due emisferi e farli lavorare insieme per favorire i processi di integrazione si utilizza quest'altra modalità si insegna quindi nella prima parte è comunque una parte di psicoeducazione sul ehm sul metodo sul trauma sull'esperienza ehm traumatica sulle emozioni che possono ehm sperimentare su quello che ci può accadere quando sentiamo eh di essere sopraffatti dall'evento critico ma anche un educazione e un addestramento all'utilizzo di questa stimolazione che poi verrà usata in gruppo in cerchio ok quindi il conduttore eh prepara l'intervento fa focalizzare appunto sul target che prendiamo in considerazione la stimolazione avviene eh dopo averla insegnata autostimolazione e la condivisione il proprio target è un disegno che la persona rappresenta davanti a sé e che il conduttore eh osserva e vede no? quindi non è eh la parte come dire di preparazione al target è la parte di eh per chi conosce l'MDR di eh eh descrizione dell'immagine più eh disturbante che è fatta attraverso il disegno hm quindi sì ci sono degli accorgimenti c'è proprio ehm già da Maslovaric e Isabel Fernandez hanno messo a punto e implementato eh in diverse eh situazioni anche emergenziali questo intervento di gruppo ok ci sono degli accorgimenti sì ok grazie allora la prossima ehm ti chiede sostanzialmente se eh ti è capitato di lavorare con medici sul tema della comunicazione e della diagnosi al fine di attutirne il più possibile l'impatto negativo no mi piacerebbe tanto perché è proprio la cosa che sento di più che sento spesso legata alla diagnosi è stata eh non ho magari dettagliato con degli esempi però davvero ci sono tante esperienze che come dire a volte dico esperienza critica sul trauma l'esperienza critica sul già critico perché eh sicuramente è complicato dare eh delle notizie di questo tipo no però spesso spesso sì lo affronto con il genitore lo sento accolgo vedo ma non ho ancora come dire trovato il canale per poter fare questa cosa magari non tantissime però in molti eh ospedali magari si fa già qualcosa anche lo psicologo per proprio aiutare a semplicemente proprio dare delle indicazioni rispetto al comunicare ci sono delle linee di vita no su comunicare le brutte notizie ed è importante però ok allora ti leggo la prossima buonasera la disabilità che non si vede ovvero quando il soggetto sembra come gli altri tra virgolette normodotato ma non lo è ad esempio alcuni autistici malattie metaboliche l'approccio terapeutico è diverso? eh l'approccio terapeutico col col genitore no nel senso che magari cambiano eh col genitore o con i fratelli magari cambiano le situazioni che loro portano come situazioni sollecitanti eh ma ehm ehm ma l'approccio è lo stesso alcuni genitori fanno più fatica eh ehm ad accettare alcuni arpezi della disabilità quando il bambino è eh come dire la collega citava un bambino autistico magari non ama inomazioni fisiche sta in piedi sta seduto eh in un momento di calma magari non dice niente è bello è carino eccetera quindi questo può per alcuni genitori essere più faticoso no e magari ehm più faticoso nel lasciare andare quella parte lì che non può fare no quindi ma cavolo eh gli insegno a leggere può parlare perché lo vedo così può parlare no magari è più difficile lasciare andare queste idee eh eh queste aspettative eh di ehm come dire di normalità perché il bambino assomiglia un po' più alla normalità ecco questo si sento vedo eh in alcuni genitori questa fatica in altri no è una risorsa no in altri da subito non 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 implica eh processi diversi nel nel supporto altri invece lo lo portano ok allora ehm spesso i genitori mi chiedono se e come spiegare la diagnosi ai loro bambini spesso autismo ad alto funzionamento esiste un'età più adatta per farlo avrebbe da consigliare dei libri sul tema ehm dunque ehm esiste un'età ehm adatta il primo direi un po' come cioè direi il prima possibile quando come dire il bambino può capire delle cose glielo spieghiamo il prima possibile quindi anche intorno ai due anni e mezzo si possono dire delle cose no? che magari sono legate più al concreto no? quindi che cosa può fare e che cosa non può fare il fratellino però cominciare sicuramente il prima possibile a ehm fornire ehm spiegazioni e dare ehm proprio questo questo concetto di diversità di faccio le cose in maniera diversa alcuni le fanno alcuni no mio fratello non le fa io le posso fare no? quindi accompagnandolo poi questa comunicazione questa ehm come dire eh si accompagna poi nel tempo aggiungendo parole aggiungendo significati in linea con quelle che sono le capacità cognitive del bambino che man mano cresce e si sviluppa ecco nel fratello quindi è una comunicazione che non è eh statica ma è un processo sempre in movimento a seconda dell'età e c'è sempre qualcosa da da aggiungere perché ci sono poi anche sempre delle esperienze di confronto che il bambino fa all'esterno ok? quindi comincia anche a farsi una propria idea però se non ne parliamo da subito magari il bambino può avere la sensazione di non poterne parlare quindi se si confronta con realtà magari scolastico di asilo dove c'è qualcosa che comincia a capire ma com'è il fratello più grande di me però lui va all'asilo e io vado nel militare lui fa una cosa che è una specie d'asilo ci sono i materiali della scuola materna ma io lo faccio lì ecco se non lo prepariamo tutte queste domande o sensazioni o emozioni il bambino può pensare di tenersene che non se ne possono parlare no? o non vogliono disturbare il genitore o non vogliono sovraccaricarlo perché già c'è tanti pensieri c'è tanto da fare no? quindi prima per evitare che si trovi questa situazione il prima ne parliamo meglio è quindi a noi proponiamo al genitore di parlarne accompagnandolo magari a seconda dell'età del bambino e di com'è la disabilità del fratello magari o della sorella a trovare le parole sì ci sono delle diverse fiabe ci sono delle fiabe sulla diversità ci sono tante fiabe che magari l'orsetto con un altro colore l'elefantino che non ha proboscide ecco ci sono delle favole e anche il fatto in animato che possono aiutare non sostituiscono chiaramente la comunicazione del genitore però possono sicuramente aiutare e fornire degli strumenti poi adesso vedo che anche su ci sono tanti anche di libri anche per i più grandi celli no? libri di persone di fratelli che raccontano la loro storia c'è questo molto carino che mi viene in mente perché l'ho letto da poco mia sorella mi rompe le balle che è Dabiano e Margherita Tercon Dabiano ha un autismo d'altro funzionamento sono fratelli adulti ecco però come c'è un approccio appunto da adulto hanno fatto anche dei fumetti insomma ci sono anche delle dei libri o delle possibilità anche per un po' per i più piccoli in genere sono così appunto storie di animali che non hanno che funzionano in maniera diversa oggetti che funzionano in maniera diversa o animali che hanno qualche differenza rispetto al solito il cantino ecco per esempio senti Alessia ti chiedo se sei d'accordo di perché siccome stanno arrivando ancora un po' di domande sono in teoria le dieci e mezza tu saresti d'accordo a ritagliarci ancora una decina di minuti per vederne ancora un paio di domande certo volete ok in dieci e quindici minuti allora ti leggo questa vorrei chiedere alla dottoressa se a partire dalla sua esperienza può dirci due parole rispetto alla disabilità adulta a come prosegue e se prosegue la presa in carico della famiglia e dei fratelli dopo l'infanzia e l'adolescenza questo è un tema complicato nel senso che poi abbiamo sempre un po' di fatica nel tenere collegati i servizi per cui il nostro è all'interno di una neuro psichiatria infantile dopo i 18 e qua bisogna spostarsi lo stesso è con la disabilità quindi diciamo che si può sicuramente a senso proseguire l'intervento o a senso la nostra figura è chiaro che è una chiave diversa a seconda proprio della caratteristica di disabilità i genitori come dicevamo poi si trovano ad affrontare anche temi sul dopo di noi se io invecchio cosa succede? chi si occupa? perché il genitore invecchia però il bambino che è diventato giovane adulto magari ha ancora l'esigenza di accudimento di un bambino quindi chiaramente le energie sono diverse quindi il tema è un tema sicuramente che si ripropone anche nella disabilità adulta e nella possibilità di capire che tipo di autonomia può avere questo adulto io non me ne occupo perché appunto lavorando sul servizio fino a 18 non me ne occupo molte famiglie rimangono in contatto con noi ad esempio quello che accennavo a questa piccola vacanza al mare di 5-6 giorni che aspettano con ansia ogni anno e purtroppo quest'anno a maggio non si è potuto fare come di consueto a questa vacanza abbiamo sempre dei numeri che aumentano nel tempo come se l'anno scorso erano 40 famiglie quest'anno sono 30 quest'anno sono 30 quelle ma ce ne sono altre come mai aumentano aumentano i numeri sono sempre quelli semmai dovrebbero diminuire non tutti vengono a una scelta perché ci sono le famiglie dei bambini degli adulti diventati adulti che non si frequentano più o sono in altri centri che continuano a chiedere di venire almeno a quel momento di condivisione questo è la loro idea che il senso di appartenenza è importante il senso di la possibilità di condividere è importante io faccio appunto in questa vacanza il gruppo mamme sulla spiaggia un'oretta facciamo la nostra condivisione con le mamme e ci sono mamme che io non ho mai visto perché magari appunto il figlio adulto perché si integrano benissimo con le mamme dei bambini magari di 5-6 anni che sono da noi appunto nel ciclo dicendoci proprio che hanno proprio necessità di questi confronti ci sono delle ottime tante diverse associazioni magari associazioni di genitori con la sindrome di Down un'associazione con autismo ci sono diverse anche altre realtà di associazionismo di rete che appunto si occupano dei genitori in genere sono associazioni di mutuo aiuto perché l'esigenza di condivisione è tanta molti hanno proprio anche la possibilità di fare gruppi con uno psicologo che magari facilita e guida alcuni processi perché l'esigenza va avanti fino ai genitori per sempre quindi si ha comunque l'esigenza di affrontare e di condividere alcune tematiche sempre sono arrivata ad ancora un po' di domande sui gruppi dei genitori nel senso che c'è chi chiede intanto se questi siano gruppi a pagamento e in caso affermativo se esistono delle agevolazioni per i genitori e poi chiedono quali sono i criteri con cui vengono costituiti i gruppi ok allora questo progetto, questo servizio è all'interno della vigenza disabili ed è gratuito per i genitori quindi che il bambino è all'interno dell'abbiamo ottenuto con fatica però l'esigenza appunto era tanto, è stato voluto tanto e abbiamo dei ritorni molto positivi è proprio gratuito anche l'attività con i fratelli è gratuito per il genitore mi dicevi, mi chiedevi dei criteri allora io ho c'è proprio un criterio fisico nel senso che ci sono i genitori dei bambini che sono in quel momento durante l'anno e gli anni perché poi restano fanno tutto il ciclo di scuola quindi fino ai 18 magari quindi quelli sono i genitori e quelli sono i genitori che arrivano ok quindi il criterio di scelta è dato dall'iscrizione io poi faccio dei colloqui individuali con tutti i genitori prima di metterli in gruppo innanzitutto verificare non è un obbligo è una possibilità verificare se la cosa è opportuna ed è utile sia secondo appunto il giudizio ma anche secondo il genitore perché magari per alcuni genitori è troppo presto rispetto alla diagnosi rispetto a entrare in questo mondo la situazione di affrontare di condividere in un gruppo alcuni ce lo chiedono magari l'anno prossimo non me la sento è troppo presto perché magari si propone un intervento diverso individuale ok quindi cerco un pochino di capire appunto qual è l'esigenza del genitore e qual è l'intervento più utile quando in alcuni momenti dove avevo più soprattutto quando siamo partiti perché comunque avevamo siamo partiti con 39 genitori quindi non poteva essere un gruppo unico quindi abbiamo fatto tre gruppi e lì come dire nella scelta nell'eicolo individuale mi hanno anche permesso di come dire condividerli suddividerli nei gruppi ecco base un po' anche alle anche le possibilità di relazioni che si possono creare ecco non c'era però un criterio legato alla caratteristica o alla diagnosi di disabilità specifica non c'era omogeneità rispetto a questo rispetto all'età ok ti ringrazio allora è arrivata una domanda temo che il tempo a disposizione non sia più sufficiente però potremmo utilizzarlo come spunto per un prossimo webinar in cui potremmo invitarti perché questa collega scriveva sarei interessata ad ascoltare un caso complesso nella sua esperienza di disabilità e come è stato gestito con la famiglia qual è il ruolo dello psicologo come ci si comporta quindi avendo noi ancora direi cinque minuti al massimo non so se puoi rispondere però altrimenti utilizziamo questo come spunto per invitarti di nuovo e magari dare un taglio diverso magari dare un taglio diverso sì allora veramente in pochi minuti è difficile sicuramente i casi complessi nella complessità ci sono stati a volte come dire si sono messe in campo più risorse quindi comunque ci sono anche delle situazioni difficili che capitano oltre alla disabilità c'è il genitore che viene a mancare ci siamo trovati uno dei genitori viene a mancare perché ci sono delle complessità nelle complessità quindi l'intervento è un intervento che va oltre la parte legata alle esperienze di disabilità ma ci sono anche altre cose piuttosto che c'è il disabile che ha magari lieve quindi che ha un livello cognitivo che ci permette di interagire lei parla che deve affrontare un intervento chirurgico e quindi magari c'è magari la parte di preparazione all'intervento per esempio ok quindi ci sono altre complessità all'interno di questa panoramica generale come noi stessi abbiamo vissuto delle complessità all'interno del nostro del nostro gruppo e della nostra esigenza perché a volte una delle la complessità per esempio per il terapeuta è anche questa che non si riesce a mantenere la distanza classica che abbiamo in mente con la scrivania o le due sedie quando facciamo terapia perché loro hanno bisogno di vicinanza e quindi è proprio un altro contesto fare i gruppi seduti sulla spiaggia al mare è certo che implica uno sforzo anche per il terapeuta di avere il setting e la sua cornice di riferimento solo nella testa non in quello che vede quindi comunque ci sono delle complessità nelle complessità piuttosto che la complessità della sofferenza per questi bambini appunto c'è il bambino con autismo che dicevamo ma c'è anche il bambino che ha come dire gli strumenti che gli garantiscono la sopravvivenza quindi comunque c'è un tema di sofferenza di divisione del dolore importante questo sia per l'operatore che per appunto il genitore ci sono delle complessità sicuramente ti ringrazio sei stata esaustiva e molto chiara peraltro arrivano anche i ringraziamenti da parte dei partecipanti che condivido con te nel senso che hanno trovato utilissimo e stimolante il tuo intervento ok bene allora ho raggiunto lo scopo di incuriosire e stimolare appunto interventi anche nell'ambito della disabilità molto bene tantissime cose da fare da poter fare bene allora io ti ringrazio e ringrazio anche tutti i partecipanti che sono rimasti con noi fino adesso nonostante i vari disguidi e i vari problemi tecnici iniziali e invito i partecipanti al prossimo webinar sempre del progetto PL Academy che sarà il 21 settembre con il dottor Pier Giuseppe Vinai che porterà un caso clinico e tratterà il tema dell'ARFID quindi la sedettività o l'avvitamento del cibo nei bambini e con questo vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata a presto grazie buonasera a presto grazie a tutti grazie 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 grazie